È morta all'ospedale Meyer di Firenze dove era ricoverata ad alcuni giorni la piccola Caterina di appena due anni e mezzo, la figlia di Gabriele Succi e Cristina Rosi. La madre nel luglio del 2019 venne colta da un arresto cardiaco era l'ottavo mese di gravidanza. La bimba così come Cristina aveva subito durante il parto cesareo d'urgenza gravi danni neurologici. Dallo scorso luglio aveva potuto riabbracciare anche la madre Cristina che dopo un lungo periodo di riabilitazione in Italia e all'estero era potuta tornare a casa. Purtroppo le conseguenze riportate nel trauma del parto non hanno consentito che la storia di questa famiglia avesse un lieto fine. Il padre Gabriele ha salutato la figlia in un post sui social. Amore mio ha scritto ti voglio ricordare così sei e sarai sempre la mia bimba speciale ma purtroppo la vita non è stata clemente con te. Ti giuro che ho fatto e abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre. Gabriele poi prosegue ringrazia tutti coloro anche personaggi famosi come Gianna Nannini che si sono impegnati nel tempo e hanno sempre accolto l'appello della famiglia per raccogliere fondi e consentire così le migliori cure a Cristina e Caterina. Per quanto accaduto c'è un procedimento giudiziario in corso con quattro indagati tutti i medici si procede per lesioni gravissime. Di certo nessun risarcimento potrà restituire a questa famiglia il dolore patito. Sei la mia principessa scrive Gabriele sicuramente sarà in un posto migliore un domani ci rincontreremo e ti vedrò sorridere e correre. I funerali di Caterina si terranno ad Alberoro dove la famiglia risiede sabato pomeriggio.